Un punto a testa per Chievo Verona e Cittadella Padova nel primo derby tra i professionisti delle due Venete. Un derby tiratissimo, emozionante e spettacolare, giocato fino all'ultimo nel tentativo di superarsi. Il Cittadella potrebbe sbloccare il risultato dopo 5 minuti, dal dischetto per un fallo di Moro su Sturba, batte Ghirardello, Marcon, devia sulla traversa. E a quarta d'ora passa il Chievo, cross di De Cesare, splendido colpo di testa di Corradi, a fil di palo. Sturba manca subito un'ottima opportunità per pareggiare da due passi. Alla mezz'ora Capecchi a vuoto, De Cesare conclude a botta sicura, salva Zanone sulla linea bianca. Ma si rifà al 35esimo l'attaccante gialloblu con questo splendido pallonetto che pesca Capecchi fuori dai pali. 2-0 per il Chievo. Ma il Cittadella riapre subito la gara dopo un gol annullato a Zanone per un fallo in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Sturba ad accorsare le distanze dopo una percussione centrale di Ghirardello. E all'undicesimo della ripresa il Cittadella pareggia i conti con Scarpa che infila Marcon da due passi. Poco dopo la mezz'ora l'arbitro Borriello annulla un altro gol al Cittadella. Sulla conclusione di Scarpa c'è Baiku in fuorigioco, apparso a tutti ininfluente. Il finale del Chievo ancora pericoloso con De Cesare ma il risultato non cambia più. Una partita bellissima sul punteggio di 2-2 il Cittadella appunto stava perdendo per 2-0 aveva anche fatto il terzo gol, c'è questo terzo gol annullato e possiamo ritornare indietro quando Rimondini passa a Scarpa in questa posizione c'è una posizione di fuorigioco di Baiku non so il nome preciso, posizione di fuorigioco che secondo me è ininfluente è stato annullato questo gol che potrà essere regolare. Un gol regolare quindi secondo te. Abbiamo visto sul nostro fascione superiore la notizia che pare che Rivaldo voglia lasciare Barcellona ne ho un altro paio di notizie al Chievo-Verona che in casa avanti di due gol si è fatto raggiungere da un Cittadella sempre vivo, sempre spumeggiante, una squadra molto interessante. Maurizio Busato per il commento. Derby veneto inedito tra i professionisti per Chievo-Verona e Cittadella-Padova che torna al Bentagodi a quattro mesi dal vittorioso spareggio col Brescello che fruttò e granata la storica promozione in Serie B. Nel Chievo rientra D'Angelo in difesa e in attacco sulle fasce e Roberto e Manfredini affiancano le due punte con Radia e De Cesare. Cittadella a tre punte con Sturba come suggeritore al posto di Caverzan e squalificato dirige il signor Borriello di Mantua. Cinque minuti appena il Cittadella manca la prima grossa opportunità per andare in vantaggio. Sturba in area del Chievo, stratona Sturba, viene stratonato Sturba, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta a Ghirardello un ex, gran botta ma centrale Marcon riesce a metterci i pugni e ad alzare sulla traversa. Al nono minuto il Chievo in avanti con Manfredini, il suo sinistro sul fondo deviato da un difessore del Cittadella, ma quattordicesimo il Chievo passa cross di De Cesare a centro area per il colpo di testa di Corradi incredibile per Capecchi, uno a zero. Al diciassettesimo esposito da destra al centro per Ghirardello che prolunga di tacco ma Sturba non trova il pallone. Trentaduesimo se ne va Manfredini sulla sinistra, al centro un cross su cui Capecchi esce a vuoto De Cesare a colpo sicuro, Zanon allontana sulla linea di porta ma al trentacinquesimo arriva il raddoppio del Chievo. Corradi prolunga di testa per De Cesare che vede Capecchi fuori dai pali e lo infila con questo splendido pallonetto. Due a zero per il Chievo. Un minuto più tardi annullato a Zanon un gol per il Cittadella sui sviluppi di un calcio d'angolo per un fallo del difensore Granata ma un minuto dopo gli ospiti accorsano le distanze. Guerra toglie il pallone dai piedi di Ghirardello ma arriva Sturba e insacca. Due a uno al trentottesimo e con le immagini montate a Nadio Carraro andiamo al secondo tempo che si apre al sesto con questa insidiorissima punizione di Manfredini che Capecchi mette in angolo come può. Ma all'undicesimo era diva il pareggio del Cittadella e di Mondini in area, il tocco per Scarpa sotto misura niente da fare per Marcon, due a due. E al trentattesimo annullato un altro gol al Cittadella per un presunto fuorigioco di posizione di Baiku entrato da poco al posto di Sturba. Dunque un derby emozionante e spettacolare giocato su un terreno pesante fino all'ultimo dalle due squadre che hanno tentato proprio fino agli ultimi minuti di superarsi. Quindi questo fa maggiormente onore a Chievo e Cittadella. Cittadella che probabilmente può ramaricarsi di più a cui probabilmente sta più stretto il pareggio. Ha sbagliato un rigore sulla 0-0 e dopo essere stato in svantaggio di due gol è riuscito con grande carattere a rimontare e poi alla fine si è visto annullare un gol apparso a tutti, regolare. Dunque, come si diceva, forse il pareggio sta più stretto al Cittadella. È tutto in linea allo studio. Comunque una gran bella partita ora passiamo all'immagine. Gol, bel gioco e risultato sempre aperto. Non vorremmo sembrare presuntuosi ma ce lo aspettavamo. Chievo e Cittadella sono ormai due piacevoli realtà del campionato di Serie B. Padovani subito in avanti già dopo pochi secondi e al quinto Moro strattona Sturba. Rigore. Tira Ghirardello Marcon si supera e devia sulla traversa. Il pericolo scuote il Chievo che inizia ad attaccare e al quattordicesimo Bernardo Corradi di testa supera Capecchi. Il Cittadella reagisce al sedicesimo Sturba liscia sottoporta. Al ventitresimo Manfredini al volo da fuori prodezza di Capecchi. Alla mezz'ora De Cesare a botta sicura sulla linea salva Zanoni. È il preludio alla raddoppio che arriva al trentacinquesimo. De Cesare fa un delizioso pallonetto e segna. Il Cittadella deve cambiare gioco e si riversa in avanti. Al trentasettesimo Zanoni realizza ma l'arbitro annulla. Un minuto dopo Sturba fa lo stesso e Borriello questa volta concede due a uno. Nella ripresa al Chievo prova a chiudere i conti. Al quinto gran botta di Manfredini Capecchi in angolo. Nel suo momento peggiore il Cittadella pareggia e l'undicesimo Scarpa controlla in aria e batte Marcon. Il Chievo vuole tornare in vantaggio ma avverte i primi sintomi di stanchezza. De Cesare tira Capecchi e respinge. È il ventiquattresimo. Poi è l'arbitro Borriello a decidere il 2-2 fermando al trentatresimo Scarpa in inesistente posizione di fuorigioco così come l'Anna al trentasettesimo.